Con lo straordinario live di Geno Paoli e Danilo Rea, due come noi che, spettacolo che ha già collezionato numerosi sold out in Italia all'estero, si è conclusa la quinta edizione del festival sui sentieri degli Dei di Agerola. La segna è composta da 50 appuntamenti, coinvolti 300 artisti e ha registrato 50.000 presenze, un successo confermato anche dalla straordinaria performance di un duo d'eccezione. La voce è il carisma di Paoli, uno dei più grandi autori e interpreti della canzone italiana, affiancata da uno dei più creativi pianisti riconosciuti a livello internazionale come Danilo Rea. Da il cielo in una stanza ha una lunga storia d'amore, da vivere ancora a senza fine, passando per la gatta e che cosa c'è. E non è mancato infine un omaggio alla melodia napoletana, di cui Paoli e Rea sono appassionati e stimatori. Gino Paoli ha ricevuto il premio Agerola alla carriera, in quanto cantautore impareggiabile e finissimo interprete della musica italiana. Ascoltiamo Gino Paoli e Danilo Rea. Quando vado sul palco non voglio creare una massa che applaude tutta insieme, non voglio creare un pubblico che in qualche maniera è condizionato. Io voglio creare delle solitudini che parlano con me. E quindi è in questo senso che sto parlando dei silenzi. Con Gino è facile, perché Gino è un attore, un cantante, è come un attore che dà un tono alle parole, una sonorità alle parole. Quindi questa sua recitazione crea degli spazi che mi permettono, è un momento che ti permette grande creatività. Quindi ogni volta è qualcosa di diverso. Grazie. 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 Grazie.